Apriamo la pagina del comprensorio con le parole del sindaco di Santa Marinella. L'ho fatto per favorire la raccolta degli ingombranti, è così che Roberto Bacheca giustifica l'ordinanza firmata per mantenere attivo il servizio di raccolta di rifiuti presso l'ecocentro della Perazzeta. Il primo cittadino non appare affatto preoccupato. Se queste sono le responsabilità contestate, mi dichiara, ripeterai le scelte fatte, ovviamente in assoluta buona fede. Ascoltiamo il servizio a riguardo. Si apparsa sui quotidiani della sua elezione a domicilio, che tradotto in termini giudiziari significa che su di lui è stato aperto un procedimento penale, è stata maldigerita dal sindaco Roberto Bacheca, che si dice amareggiato per il modo con cui è stata enfatizzata la questione relativa al sequestro dell'ecocentro. Anche oggi il primo cittadino ha dichiarato di essere pronto a fare gli stessi passi per quel che riguarda l'isola ecologica, pur di vietare una mega dispersione sul territorio cittadino dei rifiuti ingombranti. Stamattina, aprendo i quotidiani, sembrava avessi commesso un omicidio, esordisce Bacheca dopo aver letto i giornali, dove risulta indagato dalla procura di Civitavecchia in conseguenza al sequestro dell'ecocentro di via Perseo. Posso comprendere l'enfasi dei titoli di giornale e la notizia scoop in una città solitamente tranquilla, ma vorrei chiarire alcune inesattezze e specificare alcuni aspetti, tranquillizzando allo stesso tempo i miei concittadini e le persone che mi sono vicine, che si tratta solamente di una formalità facente parte della prassi conseguente al sequestro dell'ecocentro. Se dovesse servire, continua Bacheca, spiegherò i motivi per cui ho ritenuto di dover autorizzare, tramite ordinanza, il mantenimento del servizio rifiuti ingombranti presso l'isola ecologica della Perazzeta, cercando quindi di evitare che questi ultimi venissero abbandonati per le strade da cittadini poco avvezzi all'assenso civico. Se queste sono le responsabilità, contestatemi. Ripeterei le scelte fatte, ovviamente in assoluta buona fede. È in programma domani sera alle 21 nella Sala Flaminia Odescalchi una seduta straordinaria di consiglio comunale con alcuni punti importanti all'ordine del giorno, come le tre interrogazioni sull'inquinamento acustico e rispetto delle normative da parte del Comune di Santa Marinella sul piano di emergenza comunale e sullo sfratto degli uffici urbanistici e gestione immobili. Si parlerà inoltre del riconoscimento dei debiti fuori bilancio e i provvedimenti di ripiano ed infine l'equilibrio e l'assestamento di bilancio 2013-2015. È morto all'età di 82 anni Emidio Palombi, noto imprenditore agricolo e produttore vitivinicolo di Tarquinia, che ha dato il nome all'eccezionale rosso Soremidio, che vede la celebra firma dell'enologo Cotarella. Oltre al Soremidio, l'azienda di famiglia, la Sant'Isidoro, produce anche il rosso Corintus e il banco Forca di Palma. Impegnato da sempre nel mondo dell'agricoltura, Emidio Palombi è stato fino a poco fa presidente del consorzio di bonifica della Maremma Etrusca, uomo molto stimato in città, anche per i forti valori cattolici con i quali ha cresciuto la sua meravigliosa famiglia. Palombi ha seguito fino all'ultimo la propria azienda, nonostante avesse già da tempo delegato i figli. I funerali si svolgeranno domani alle ore 15 presso la chiesa San Giovanni. Passiamo a Tolfa, domani iniziativa per la giornata dedicata alla violenza di genere organizzata dalla sezione della FIDAPA. L'associazione Collinare, in collaborazione con il comune di Tolfa, proporrà la visione del film L'amore buio di Antonio Capuano. Sulla tematica della violenza sulle donne, con la lettura espressiva di due brani tratti dal libro di Serena Dandini, Ferite a morte. All'evento che si svolgerà presso il Teatro Claudio, prenderanno parte le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado di Tolfa e a Lumiere. Di nuovo vi lascio un piccolo spazio pubblicitario a seguire l'informazione dello sport. A tra poco. Grazie a tutti.